carissimi amici di food in moto eccoci qui per un nuovo video volevo parlare di due crossover che ho provato una anche recentemente che sono la yamaka tracer 7 e la triumph 660 sport tiger si tratta di due moto molto molto simili che hanno avuto anche stanno avendo anche un buon successo per quanto riguarda la yamaka si tratta di una moto bicilindrica spinta dal motore cp2 ormai abbastanza famoso un bicilindrico che gira abbastanza in alto e che ha una coppia che si fa viva già dai passi regimi e dall'altra parte abbiamo un tre cilindri classico con firma triumph che è un pochino più potente diciamo che ballano circa 56 cavalli differenza a favore del tre cilindri quindi avremo un motore da circa 80 cavalli con una coppia simile ma come dire spalmata leggermente differente rispetto al motore bicilindrico ok quindi diciamo che questo nella guida viene 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 sentito direi che dal punto di vista della usabilità sono due moto abbastanza equivalenti sono due moto crossover tutto fare un po come anche la kawasaki versis ad esempio che hanno una buonissima esperienza di guida perché hanno un'ergonomia molto indovinata quindi si sta molto bene in sella con leggero diciamo così vantaggio della triumph per quanto riguarda il comfort benché una moto sia forse leggermente più piccola almeno a percezione il comfort che ho notato delle sospensioni mi è sembrato maggiore rispetto a quello della tracer 7 che monta delle sospensioni tradizionali mentre le sospensioni della triumph sono delle sospensioni showa a steri rovesciati non so se la differenza la facciano gli steri rovesciati o meno non credo ma di fatto il comfort è migliore sulla triumph forse anche per la sella che è un pochino più più morbida per quanto riguarda la guidabilità su strada bene le ho trovate diciamo equivalenti perché sono entrambe agili tengono il punto di corda poi magari andatevi a vedere due video sul canale e sono molto codibili nei percorsi misti ed anche in città perché sono molto maneggevoli per cui direi che sono alla pari da questo punto di vista non ho trovato delle differenze quindi le differenze secondo me stanno più nel motore perché a livello di ergonomia e a livello come dire di di esperienza di guida sono molto simili ok quello che cambia un po il comfort che secondo me come ho già detto è a favore della triumph e soprattutto il motore perché il motore triumph spinge meglio in alto e abbiamo quel salire di giri che tanto piace ad alcuni motociclisti che hanno una vena diciamo così sportiva e però diciamo in basso è molto fluido poi riprendere anche con la quarta marcia da bassissimo numero di giri non perde un colpo però è chiaro che la coppia si fa sentire intorno ai 5 mila giri ok dopo di che solo fluido ma non ha molta coppia questo per il tipo di moto è un pro è un contro nello stesso tempo è un pro perché è un crossover che si come di manifesta un po più sportivo è un contro perché quando vorremmo la coppia ad uscita ad esempio di curva o quando siamo in due col passeggero questa coppia viene un po a mancare nel caso del motore cp2 yamaka invece abbiamo una coppia che già si manifesta dai regimi più bassi è un po più consistente in basso e questo non ci meraviglia per il tipo di architettura che abbiamo su questo motore che è un bicilindrico quindi tendenzialmente a una coppia diciamo più sconsistente ai bassi regimi quindi c'è una coppia che ci accompagna dai bassi regimi con un salire di giri costante ed è anche un motore che ha un buon allungo un buon allungo fino all'imitatore dei giri che è intorno a 10.000 però diciamo che negli ultimi 2.000-2.500 giri il tre cilindri Triumph è più potente e quella differenza di cavalli di una manciata di cavalli però si sente devo dire la verità non è che non si sentono diciamo che nella guida generale la brillantezza è equivalente anzi addirittura per certi versi a me sembra più brillante la Yamaha Tracer col CP2 Yamaha perché perché diciamo che i regimi che noi utilizziamo normalmente in moto sono quelli che vanno dai 3.000 ai 6.000-7.000 giri e in quel range la curva di coppia del bicilindro è più favorevole quindi diciamo che dal punto di vista del motore pensandoci bene ripensandoci bene perché questa cosa anche a me è stata un motivo di dibattito interno diciamo alla fine io penso che il motore CP2 Yamaha sia più adatto a quel tipo di moto che il Triumph però è una questione di gusti se invece a voi piacciono più le moto con una coppia diciamo un po più alta allora in quel caso la Triumph è la moto che fa per voi quindi facendo un breve recap posso dire che sono due moto abbastanza equivalenti che si somigliano parecchio come guidabilità con un vantaggio a livello di comfort per la Triumph e un vantaggio a mio parere per il motore per la Yamaha Tracer perché il bicilindrico credo che fino a una cilindrata che va diciamo dai 500 agli 800 cc sia più adatto per quel tipo di moto altrimenti rischiamo che col passeggero poi abbiamo un po' di problemi magari in percorsi in salita un po' di problemi ad esempio l'uscita di curva dove non abbiamo la coppia che vorremmo siamo come dire costretti a scalare marcia si tratta comunque di un motore tre cilindri molto efficace molto piacevole da guidare non voglio dire che non sia piacevole ma il CP2 Yamaha secondo me in questo momento è il motore da battere in quella categoria cioè quella che va dai 700 agli 800 cm3 per quanto riguarda la ciclistica abbiamo due telai diciamo così in acciaio con mono ammortizzatore posteriore e due dischi all'avantreno nessuno dei due particolarmente pregiati abbiamo delle pinze normali che sono Nissin nel caso della Triumph e credo che siano marcate proprio Yamaha nel caso della Tracer e la strumentazione anche diciamo che la strumentazione anche un pochino fa la differenza perché a mio parere benché economica quella della Triumph è piaciuta un po' di più sia come lettura che che come anche contrasto al sole si vede un pochino meglio però ripeto siamo lì più o meno siamo lì quindi la vera differenza l'ho trovata nel motore e a favore della CP2 Yamaha e nel comfort a favore della Triumph dopodiché per quanto riguarda il giudizio estetico è del tutto personale secondo me ha un pochino più di personalità la Yamaha Tracer ma come in gradevolezza nell'estetica ma questo ripeto un giudizio del tutto personale è migliore la Triumph cioè la Triumph è quella moto che che la guardi e ti piace subito la Tracer 7 insomma ti conquista magari man mano perché è un look più originale per quanto riguarda poi diciamo il branding sono due marchi abbastanza affermati abbastanza famosi che hanno il loro mercato affermato in Europa e che comunque hanno una rete di vendita molto affermata sia in Italia che all'estero per cui da questo punto di vista sia l'inglesina che la giapponesina diciamo così si equivalgono quindi insomma ho cercato di darvi un po' un quadro generale dei due moto che ho provato sperando che possa essere anche utile nella scelta e vi raccomando se vi è piaciuto il video mettetemi subito un super like o un ultra like e iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina perché così sarete aggiornati sui prossimi video che farò ciao a tutti a presto